Buonasera, ben ritrovati cari amici, benvenuti e bentrovati nei divani rossi di Dopocena. Riprendiamo la programmazione dopo la pausa dedicata al Natale. Ci siamo lasciati l'ultima volta con una puntata dedicata al Natale, avevamo ospiti gli amici del presepe vivente di Torrete. Archiviata la pausa natalizia e tutte le sue festività, la prossima è un'altra di quelle manifestazioni, di quegli eventi che ha nella fanesitudine proprio il suo DNA, ovvero il Carnevale. Ed è di questo che vogliamo parlare perché fra due domeniche e il 24 ci sarà la prima sfilata, ma nell'arco dell'evento Carnevale Fanese ci sono anche manifestazioni collaterali molto belle. E una di queste è proprio l'oggetto di questa puntata di Dopocena ed è il Carnevale in Soup. Carnevale in Soup vedete l'immagine, la locandina già più o meno spiega di che cosa si tratta, c'è uno strano figuro con un remo e una tavola sotto i piedi. Allora per spiegarvi che cos'è questa cosa, insomma vedete nell'inquadratura larga del regista Andrea Marcelli vediamo anche delle tavole qui e naturalmente serviranno per spiegarci insieme agli amici che sono ospiti nello studio di che cosa si tratta. Allora salutiamo subito Vincenzo Maggi, direttore di Mare Dentro, nonché istruttore subacqueo, istruttore di salvamento, arti marine, insomma c'è un curriculum che è di due pagine però dopo capiremo anche perché e poi a fianco a lui c'è Filippo Gambelli che è istruttore di windsurf, di windsurfing Fano, insomma che è collaterale insomma anche come attività sempre a voi. Allora partiamo dall'evento, insomma di che cosa si tratta di questa... Bene l'evento è il Carnevale in Soup, noi faremo, saremo mascherati su queste tavole e pagaiando partiremo dal Lido dove c'è il tendone, lo spot del tendone passeremo costeggiando la spiaggia, arriveremo ai casoni della pesca, entreremo in porto, faremo un giro all'interno della Darsena passando poi per il porto canale fino in fondo alla Darsena Borghese e tornando indietro. Tutto questo saremo con appoggio del gommone del circolo windsurfing Fano e in più avremo anche una moto d'acqua da salvataggio. Noi saremo su queste tavole mascherati da Carnevale. Cosa sono? Le tavole dello stand up paddle è una tavola tipo surf, come vedete qui nel quadratore. Pieghiamo anche lo sport perché magari giustamente non tutti conoscono magari il surf, windsurf, lo conoscono però questo qui con il remo è una novità per noi italiani perché magari forse negli Stati Uniti è più... Voi avete già partecipato a cose di questo genere vestiti da Babbi Natale, abbiamo visto prima nella foto che è andata... Ecco qui vi vedete i ritratti, quindi siete tutti in piedi su queste tavole con il remo. L'effetto è questo, però invece di essere vestiti da Babbo Natale sono mascherati da Carnevale. Visto che a Fano abbiamo un Carnevale molto famoso, automaticamente abbiamo pensato io e Filippo di portare questo evento a Fano. A Fano. A Senigallia fanno quello e noi a Fano faremo buon carnevale. Allora lo sport è uno sport molto bello perché è uno sport che naturalmente si fa a contatto col mare, con la natura, mette in diretto contatto insomma l'uomo e il mare ed è uno sport che abbiamo importato anche questo immagino dagli Stati Uniti. Però che sport è? Spieghiamolo perché poi magari qualcuno ci si appassiona e perché no? Ci prova. Allora il nome tecnico di questo sport è Stand Up Paddle, stare in piedi e remare in inglese. L'acronimo è SUP o SAP. Questo sport utilizza una tavola tipo surf, leggermente più grande, con dei volumi di acqua maggiori, in modo che tu abbia un equilibrio maggiore. E come si muove? Non si muove né con la vela né con le onde, ma si muove con un remo. Questo sport qua è stato, tra virgolette, arrivato in Italia nel 2005 più o meno. Adesso pian piano sta prendendo piede con varie regate, qui poi vediamo anche delle evoluzioni, che queste le ho fatte io però, questo è solo per divertirmi, e sta prendendo piedi sia dal bambino alla persona adulta. Perché questo sport oltre ad essere a contatto con la natura, come dicevi tu, e ha un impatto ecologico bassissimo perché non ha un motore, fai attività fisica, comunque ti godi quello che c'è, si può utilizzare sia per il diporto, fare le passeggiate, sia con le onde o anche fare le regate, perché in questo sport ci sono anche le regate sia in distanza che quelle da surf con le onde. E qui a Marotta c'è proprio anche... Esatto, a Marotta c'è, d'estate c'è anche il campionato italiano. Poi noi speriamo di portare una regata a Fano per quest'estate a livello amatoriale per cercare di portare più persone qui a questo sport e con noi. È uno sport che possono praticare tutti? Tutti, tutti. Anche con i cani si può fare, porterà spasso i cani. Ah, vedi? Sì, quello è un cane di salvataggio, però comunque si può utilizzare e lo possono utilizzare tutti. Dopo vediamo anche l'aspetto legato al fatto, insomma, tu porti lo stema della protezione civile, quindi c'è anche una tecnica utilizzabile per il risalvamento. Dopo questo lo vediamo più avanti, però visto che insomma ce le hai portate qui in studio, le tavole, facci vedere a secco, diciamo, a secco, come avviene insomma la cosa. Allora, adesso ti faccio vedere un attimo com'è l'impostazione all'inizio per utilizzare lo stand-up paddle, il sup, adesso usiamo il sup perché sennò stand-up paddle diventa troppo complicato. Questa è la pagaia, questa qui è la tavola. La tavola, c'è la punta, si chiama nose, il deck e la parte posteriore o la poppa si chiama tail. Questo qui è il remo fatto da una pala, lo shaft e la maniglia come impugnarla. Vedete la pala? La pala non va impugnata così, ma va impugnata così. Ci si mette con i piedi paralleli all'altezza della maniglia, in questa maniera. Schiena dritta, le braccia, i gomiti devono stare a 90 gradi. Si entra nell'acqua qui verso la prua, si trasporta, si trascina l'acqua fino dietro e si esce in questa maniera. Si fanno tre pagaiate da un lato e tre pagaiate dall'altro. Si cambia il lato e si fanno dall'altro lato. Tre a destra e tre a sinistra. Per frenare entreremo da poppa verso prua. Se siamo in difficoltà ci possiamo anche inginocchiare e pagaiare in ginocchio. Ah, si può fare anche così? Certo, perché se tu sei in difficoltà, ti si alza il vento, ti puoi mettere in questa maniera e poi ci sono altre tecniche di sicurezza per entrare in sicurezza e avere immagine di sicurezza maggiore per non avere nessun tipo di problemi. Queste tavole si possono utilizzare sia quelle dedicate proprio al sapreschio, al salvataggio, ma anche queste qua normalissime che sono in gomma e che non provocano danni. Per questa qui è gonfiabile, come vedete voi, questa si può sgonfiare e gonfiare e quella che vedete lì invece è una tavola rigida, strutturata più per le onde. Ecco, guarda, stanno inquadrando. Esatto, questa qui è rigida, vedete anche la pagaia, la pagaia è in carbonio e l'altro pezzo è fatto in bambù. Questa invece è una pagaia completamente in legno fatta a mano. Poi ci sono quelli in alluminio, quelli in plastica, ci sono tantissimi modelli in carbonio, lunghissime per fare le regate, dipende dall'utilizzo che tu ne fai. Quella gonfiabile è molto comoda anche per chi magari ha macchine piccole, spazi ridotti, comunque no? Più che spazi ridotti, tu questa qui, quando l'hai caricata nello zaino, la puoi portare anche in bicicletta. Ah, ecco. Esatto. Tutto la carichi sulle spalle perché hanno uno zaino, una pompa, la pinna che c'è dietro si smonta e tu la puoi utilizzare normalmente anche in bicicletta. Quindi se hai la barca, se hai il camper, se hai la macchina piccola, se hai soltanto un poco spazio, questa si richiude. Quella strutturalmente è migliore perché è fatta in materiali molto più tecnici, però queste sono più comodi perché le puoi portare dove vuoi. E in più, facendo salvataggio con queste, se tu vai contro il pericolante, non li provi con un altro trauma perché in gomma è morbida. È morbida. Esatto. Senti, dopo a seconda anche, immagino, della struttura fisica della persona, ci sono tavole più o meno adeguate oppure la tavola è indipendentemente... No, come vedete anche qui, questo è un corso che tenevo a Riccione, ci sono una varietà infinita di tavole. Esatto. Come tutti gli sport, ci sono le evoluzioni, sia nel materiale, sia nelle strutture delle tavole e sia anche la tua abilità per andare su quella tavola. Dici, voglio fare soltanto la passeggiata, piuttosto che il bagno fuori con la mia compagna o con gli amici, prendo una tavola di volume elevato, così ho più stabilità per andare avanti e indietro. Voglio fare le regate, ci sono tavole apposta molto lunghe, molto strette, però non hanno la prua in quella maniera, hanno proprio una prua come se fosse una barca. E qui adesso non si vedono, oppure abbiamo altre tavole normalissime, rigide, sempre lunghe, che hanno una stabilità maggiore. Se vuoi fare onde, prendi quella lì, ha un volume ridotto, però quelle tavole, come arriva l'onda, ma anche questa può essere utilizzata, parte direttamente con l'onda. Però quella lì è utilizzabile anche a mare piatto, insomma. Sì, 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 però è più... Dipende sempre dall'anatomia della persona che ci va su. Perché ogni tavola ha un massimo di peso. Perché il volume che sposta automaticamente ti rende meno stabile sulla tavola. Quindi in base alla tua altezza, al tuo peso, devi prendere una tavola che abbia un determinato tipo di volume. Filippo, sembra che le tavole assomiglino molto a quelle di derivazione surf e windsurf. Sì, sono molto simili. Infatti anche noi per questo motivo abbiamo deciso di supportare Enzo in questa sua iniziativa, appunto anche perché questi due sport si assomigliano, anzi, sono molto simili. Enzo ci ha contattato, ci ha voluto il nostro supporto e noi abbiamo deciso di aiutarlo in questa sua iniziativa. E anche i nostri soci hanno supportato la sua iniziativa. E ecco, speriamo di aiutarlo in una... Quindi i costumi saranno costumi, insomma, va bene, Babbo Natale veniva facile, di vestire da Babbo Natale. Sì, tutti uguali, ecco. E speriamo anche qui di... Coinvolgere un po' di persone. Esatto, se posso, noi questo lo facciamo anche per farvi venire tutti a partecipare sia sull'acqua che fuori dall'acqua. La cosa importante è che con qualsiasi tipo di attrezzo galleggiante, la cosa importante è però mascherati per creare questo evento un po' più carino. Un po' più colorato. E farlo riuscire, sì, quello. Sembra, profano in materia, che sia uno sport molto immediato, una pratica agonistica molto immediata, una tavola, invece, magari, il surf o il kitesurf, c'è vela, c'è trapezzo, c'è vento, condizioni climatiche. Qui, forse, è proprio ready to go, pronti via, mi piace il mare, Babbo. Anche questo, forse, è un aspetto bello di questo sport. Sì, sì, infatti, questo è una specie di sport, è uno sport crossover tra windsurf, kitesurf, surf da onda, o anche a livello proprio di arti marinaresche. Il discorso è che questo sport qua sia più intuitivo, è suggerito, è consigliabile avere minimo... delle basi tecniche da un istruttore. Perché? Perché come tutti gli sport, avendo le basi tecniche, tu fai meno fatica per apprendere immediatamente e anche meno sforzo fisico. Perché a volte si fanno degli errori che ti portano ad avere dei problemi, tra virgolette, fisici, ma di schiena, dolore alle braccia, sensibilità alle gambe, e via dicendo. Come tutti gli sport, giochi a tennis, è facilissimo giocare a tennis, però sai quello che te lo spiega? Fai meno fatica, e lo fai meglio. E lo fai meglio. Allora, visto che ti sei prestato prima, facciamo vedere cosa fare e cosa non fare. Cioè, qual è il movimento giusto e qual è il movimento sbagliato? Allora, io in due minuti, come vi ho fatto vedere prima, l'impostazione, non vi faccio vedere tutta la partenza dall'acqua in ginocchio, perché se no diventa troppo lunga. Gli errori comuni, comuni che si fanno nello stand-up paddle sono quelli della pagaiata. Come ti dicevo prima, allora, la maggior parte delle persone non tengono i gomiti a 90 gradi, tengono le braccia in questa maniera, cosa fanno? Sforzano sulla schiena. Esatto. Ok? Invece, la remata, cioè la pagaiata, va fatta con le braccia. Cioè, il braccio superiore, altezza occhi, spinge, quello inferiore tira l'acqua. Ok? Vedete che usiamo le braccia come leva, non la schiena e dopo scendiamo dalla tavola e abbiamo il mal di schiena. Questa è la cosa primaria e in più poi l'equilibrio. All'inizio, che una persona sale sulla tavola, quando verrai tu a trovarmi, io ti farò vedere che tu dovrai andare sulla tavola in questa maniera. Sembra una posizione strana, esatto, queste cose qua. Però questo fatto di stare col baricentro basso ti dà la possibilità di non cadere. Ah, ecco. Stando dritto con la schiena, lo sguardo verso l'orizzonte, in questa maniera tu stai così. Se invece utilizzi la pagai e abbassi la testa, alla prima pagaiata la testa ti sbilancia e ti porta giù. Esatto. Capito? Queste sono delle piccole tecniche. Poi è normale chi viene a fare un corso, poi gli viene spiegato anche la sicurezza della tavola. Uno, perché sei vincolato con un leash alla tavola o un guinzaglio, noi lo chiamiamo guinzaglio perché comunque è la traduzione dall'inglese. E in più, poi, quello che ti faccio vedere prima, è in ginocchio e più c'è anche il rientro di sicurezza. Che se si dovesse alzare qua nella nostra zona abbiamo un garbino. Esatto. Tu cosa fai? Dici, non posso perché il garbino mi spinge fuori. Non ce la faccio rientrare. Ci stendiamo sulla tavola, pagaiata sotto il petto e si torna bravissimo. Ah, fantastico. Bravo. Lo stand-up paddle ha una serie di collocamenti, dal divertimento al diporto, alla sicurezza in mare come gli eventi che abbiamo fatto l'altro giorno con i ragazzi del bagno di gennaio, al salvataggio come utilizziamo di mare dentro proprio con protezione civile. Ha una varietà, infinità di sfaccettature che si può utilizzare. Non è solo uno sport bello, divertente da praticare, ma può avere anche un utilizzo e di questo adesso ne vogliamo parlare. E poi fa bene fisicamente. E poi fa bene fisicamente, che insomma non è mai una brutta cosa, anzi stare all'aperto. Secondo me, un'altra cosa, e lo puoi utilizzare sempre, anche in inverno, non è per forza bisogno della necessità. Basta una muta, come vediamo lì sotto la divisa del salvataggio c'è una muta e sei a posto. Qui dove eravate? Qui eravamo a Lido. Questo però è l'evento dell'anno scorso. Ah, ecco. E qui avete fatto assistenza ai bagnati. Sì, noi come mare dentro facciamo assistenza sempre con le tavole SAP Rescue per la loro sicurezza, perché l'acqua era abbastanza fredda e quindi poi collaborando con tutti quei ragazzi, ci sono molti ragazzi che fanno questa cosa, è stata una collaborazione anche divertente, perché sono veramente degli arditi. Filippo, è una commistione di attività, penso, no? Perché tu fai una cosa, fai l'altra, quindi chi fa surf, windsurf, può fare anche supo e viceversa, ma è sempre a che fare con le tavole, immagino, no? Infatti anche d'estate, anche quando noi facciamo i corsi, seguiamo questi corsi a volte con il SUP, sono due sport che si uniscono completamente, anche quando non c'è il vento usiamo questi SUP per far divertire i ragazzini ai quali facciamo i corsi, capitano delle mattine che diamo appuntamento a questi ragazzini e non c'è vento, li mettiamo sui SUP. E quindi sono comunque... Sono due attività che si uniscono, ecco, anche perché c'è molta curiosità, sono proprio complementari queste due attività. E poi soprattutto c'ha anche meno vinco, insomma, il wind c'ha, insomma, che inizio sine qua non, un minimo di bava. Perfetto, sì, infatti è anche più immediato, uno col windsurf è un po' più collegato al vento, alle condizioni, mentre qui uno viene alla mattina, prende e va. Col wind ci sono anche delle nozioni, senza arrivare al kitesurf, che lì c'è proprio veramente una commissione di attività, insomma... Anche se sono tre sport bellissime. Tre sport stupendi, anche spettacolari, vederlo, però è molto, insomma, da esterno, viene da dire che il kitesurf è molto tecnico, insomma, ci deve essere una padronanza sia della tavola che del vento. Però il windsurf necessita anche di nozioni velistiche un minimo, no? Sì, sì. Giusto, Enzo? Perché almeno, insomma... Sì, sì, poi dopo, più chi, più di Filippo, che lui è un istruttore windsurf, sì, come tu, ti ripeto, secondo me, tutti gli sport, se li vuoi fare bene, devi avere una base tecnica per farteli fare correttamente e portare a casa sia il vantaggio, ma il vantaggio non soltanto a livello fisico, c'è proprio a livello proprio di gratificazione, che tu fai una cosa fatta bene e ti diverti. E ti diverti, e soprattutto non ti... E non ti fai male. E non ti fai male, perché, insomma, voglio dire... Esatto. È come andare in palestra e, insomma, iniziare a pompare in maniera sconsiderata pesi, misure, cose e dopo finisce che invece di farti vedere qui nello sport, anche se sembra uno sport molto easy, molto immediato, insomma, bisogna essere quantomeno impostati, giusto? Esatto, almeno le impostazioni iniziali. Allora, parlavamo prima anche di un utilizzo della tavola, del sup, di questa pratica, anche a fini di salvamento e a fini... Voi avete partecipato anche a un evento a luglio, qui vi vediamo insieme agli amici della Capitania di Porto, che era mirato proprio a questa cosa. Adesso vediamo insieme il filmato che era inerente a quella giornata e quindi, ecco, spiegaci veramente come si riesce a fare. Sì, niente, qui, questa qui è l'operazione SAR, il search and rescue in collaborazione con la Capitania di Porto e le altre associazioni di protezione civile. Qui vediamo, qui ci stiamo preparando. Adesso la persona, il collega con la maglia rossa, lui farà da, diciamo, da vittima. Farà quello che sta negando, però in stato di coscienza. Quindi no, in semi-annegamento, però è cosciente. Io con la tavola, adesso questo è il momento che vado a recuperarlo, in questo caso, io però sono partito dalla spiaggia, adesso qua l'immagine non si vede, ribalto la tavola, tranquillizzo la persona, mi qualifico, che sono un soccorritore, sono lì per dargli una mano, gli dico di appoggiare le sue braccia sulla tavola, ribalto tra, e automaticamente, facendo da leva, lui è già posizionato sulla tavola. Siccome è in stato di coscienza, quindi non è privo di coscienza, io recupero la mia pagaia, e in questo caso qua, invece di avvicinarmi alla riva velocemente, aspetto la moto d'acqua che arriva dalla Capitania di Porto. Però tu in questa condizione potresti tranquillamente raggiungere la riva con il malcapitato sulla tavola, adesso vabbè, qui arrivano loro. E qui perché dobbiamo fare l'evento con tutti i sistemi di salvataggio, quindi sono intervenuti. Però tu qui, teoricamente, sei autonomo. Sì, perché in effetti io, quindi ti ripeto, l'immagine non si vede, ma io sono partito dalla spiaggia, quando ho mandato il via, automaticamente sarei rientrati in spiaggia, poi per fare questa sinergia con i vari mezzi di salvataggio, li ho portati a quelli della Capitania di Porto, che poi lo riportano a riva loro. Però questo si può utilizzare, è anche più veloce del pattino, è molto più veloce perché è più leggero da portare in acqua. Quando poi l'hai lanciato in acqua, come hai visto, la velocità di intervento è molto più rapida. Molto più rapida, sì. Sia che il pericolante sia cosciente, sia che il pericolante sia inconsciente. C'è un'altra manovra, diciamo che lui è già negato con la testa sott'acqua e non si muove. C'è un altro sistema come, tirarlo su, fargli subito le 5 ventilazioni preventive, fargli svuotare i polmoni, allora lì si carica, però lui lì è senza stato di coscienza. Quindi non è collaborativo. In quel caso, essendo in panico, come in tutti i salvataggi, cosa devi fare? Ti devi interporre tra te e lui, prima che quello lì ti porti giù. Devi interporre tra te e il pericolante, in quel caso in agitazione, in panico, un ausilio che lui si aggrappi. Perché la persona che... No, si aggrappa a te e ti porta sotto. Poi lì ci sono altre tecniche per disvincolarsi e cose varie. Perché comunque tu sei anche istruttore di salvamento, quindi insomma hai dimestichezza con la materia. Fai anche corsi per... Mare Dentro si occupa di formazione, sia con lo stand-up paddle, lo subacquea, con i corsi di primo soccorso salvamento academy, con il defibrillatore, e in più siamo volontari di protezione civile con il SAP Rescue. E quest'estate abbiamo partecipato, dopo quella operazione, si chiama Operazione Mare Sicuro 2015. Noi facciamo il pattugliamento delle spiagge. Di base erano i bagni 5, io da lì poi mi spostavo verso Pesaro, fino al Kendua, e pattugliavamo le spiagge in modo da tenere tutto sotto controllo e qualsiasi problema di sicurezza noi potevamo intervenire con queste tavole. Quindi insomma, fisico permettendo, puoi percorrere anche lunghi tratti di mare. Sì, sì. Infatti poi io ti aspetto questa appena arrivano le belle giornate per portarti fuori, farti vedere e dimostrarti che basta poco, fatto bene, e puoi fare tutto quello che vuoi, divertendo. Divertendo, certo. Però insomma l'aspetto anche di salvamento è una bella, è una bella aspetto insomma. Sì, sì. Un po' insolito per noi però. Sì, ecco, bravo. È un po' insolito per noi italiani. Perché se tu vai nei paesi di tipo in Australia, piuttosto che anche in Spagna, in Brasile e in Portogallo, che loro sono quelli che si affacciano sull'oceano, loro sono già strutturati con il SAP Rescue. Fa parte proprio delle attrezzature obbligatorie. Da noi l'attrezzatura obbligatoria è il pattino. Super bello. Il pattino mai. Però purtroppo il regolamento però dice quello. Questo poi quello che c'è dopo è tutto in più. E ci sta. E va bene. Però tu devi essere quello. Anche se il pattino è un ottimo mezzo. Beh, certo. Per chi lo sa manovrare. Il bagnino col pattino è un'immagine legata proprio al nostro mare. È classico. Questa è una cosa in più, più veloce, più rapida, moderna, ecologica, perché è impatto zero, non ha motore, non ha inquinamento. C'è anche l'aspetto green, ecocombattibile. Esatto. Quindi insomma, avete capito che si possono fare tante cose con questa tavola. Dalla tavola è partito un po' tutto il movimento legato a questo utilizzo. Ci è partiti con i longboard, no? Esatto. Le tavole da surf havaiane, poi dopo insomma siamo arrivati a queste. Però insomma, ritornando a bomba, quindi quella cosa che vi contraddistinguerà nell'immediato è appunto, se li volete vedere, questi ragazzi buontemponi, ma anche fisicamente prestanti, insomma, per cui un minimo di fisicità ci vuole, saranno sul Porto Canale domenica 31 gennaio. e si può partecipare, insomma, no? Sì, sì, sì. Noi vi aspettiamo tutti, cioè, che veniate in acqua con il soup o con la barchetta, piuttosto che la zatta era fatta da voi vestiti da carnevale, importante, mascherati da carnevale. Noi, di Mare Dentro, con il circolo windsurfing Fano, vi aspettiamo numerosi, ma se non volete venire in acqua ci venite a vedere almeno per darci un supporto sia colorato che visivo e morale. Bene, allora, insomma, speriamo di aver solleticato la vostra curiosità, perlomeno, insomma, andiamoli a vedere, anzitutto, se poi abbiamo, insomma, velleità natatorie ci buttiamo in acqua. Io non sono predisposto alla bisogna, però, insomma, mi attrezzerò, e perlomeno vi vengo a vedere, vi vengo a salutare, e quindi, insomma, veniteli a omaggiare della vostra presenza per questa bella iniziativa collegata al carnevale di Fano, che comunque voi siete inseriti negli eventi del carnevale fanese, questo è giusto dirlo, no? Sì. Perché fate parte del programma del carnevale di Fano. Esatto, noi facciamo parte del carnevale di Fano, anzi, colgo l'occasione per ringraziare il presidente Luciano Cecchini, che ci ha dato questa opportunità, lui l'ha accolta anche con molta entusiasmo, perché ha visto questa novità, l'ha subito fatta sua, io e Filippo lo ringraziamo per averci dato questa opportunità, sì, è proprio nel programma del carnevale di Fano. Bene, allora, grazie Filippo, grazie Enzo per la vostra, insomma, testimonianza e anche per il vostro entusiasmo che mettete nelle vostre cose. Io non vi prometto che parteciperò, però vi verrò a vedere. Però me lo vieni a vedere. Vi vengo a vedere, poi quest'estate, hai visto Mike? Ma quest'estate devi venire per forza. Per forza, va bene, insomma, mi farò, insomma. No, è bello perché ogni volta che ospitiamo uno sport qui nei divani di dopacena, gli arcieri, faccio il tiro con l'arco, il frisbee, dovrei fare una maria di sport, poi alla fine non riesco a fare, però questo del mare mi piace, devo dire che mi piace, anche perché ho sempre avuto un feeling con l'acqua, devo dire, quindi insomma, mi trova molto, insomma, molto convinto, almeno in questa fase. Va bene, grazie amici di Dopocena, salutiamo i ragazzi di Mammare Dentro e di Winsurfing. Grazie a voi e vi aspettiamo tutti quanti. Ecco, veniteli a vedere perché saranno veramente, perlomeno, coreografici. Grazie, io vi ricordo che se volete vedere questa puntata e anche le altre, seguiteci sulla nostra pagina Facebook che è Dopocena, molto facile da ricercare, anzi, cliccate mi piace, andate a vedere, seguiteci lì perché lì vi daremo tutte le news, anche insomma, caricheremo le foto, è una pagina molto, molto attiva. Bene, grazie per essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti di Dopocena, ciao! Grazie a tutti!